Salve a tutti, io sono Alfonso Vallucci, volontario del Centro Studi Futura di Cosenza e insieme ai miei colleghi Domenico Tulino, Giuseppina Larocca, Tommaso Scarpino e Francesco Altomario abbiamo realizzato questa breve relazione. Da lunedì 1 febbraio la Calabria è finalmente in zona gialla a stabilirlo il Ministro della Salute Speranza sulla base delle indicazioni dei dati elaborati dal CTS nominato ad hoc. Inizia così una nuova fase per tutti i cittadini che potranno riprendere e andare al bar tipo a bere un caffè e tipo per pranzare al ristorante. Per quanto riguarda le scuole invece tipo infanzia, primarie e medie saranno aperte in presenza dagli alunni. Per quanto riguarda invece le secondarie di secondo grado la didattica sarà in presenza per chi lo vorrà con la libertà di poter seguire la lezione da casa, diciamo, con le didattiche a distanza. Ecco appunto la DAD. Invece resta comunque il divieto di spostamento verso altre regioni se non, diciamo, per motivi comprovati e la misura del coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Altre novità importante invece riguarda oltre bar e ristoranti l'apertura di musei e mostre da lunedì al venerdì con numeri controllati all'ingresso e i negozi sempre aperti tranne invece per i centri commerciali ancora chiusi nei fine settimana. Come volontari del centro studi futura abbiamo voluto, diciamo, creare questo piccolo spazio per dare informazioni utili alla popolazione calabrese e nello specifico quella cosentina che si appresta, diciamo, a avere questa nuova fase della zona gialla. Ci uniamo alle raccomandazioni, diciamo, poste dall'autorità sanitaria e locali. Invitiamo a tutti a non creare, diciamo, assembramenti, a indossare sempre la mascherina ed evitare il più possibile zone a rischio contagio. Ora, detto questa breve relazione, io nel salutarvi vi ringrazio per l'attenzione e infine io insieme ai miei colleghi Domenico Tulino, Giuseppina Larocca, Tommaso Scarpino e Francesco Altomaro vi salutiamo.